E di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'ex 131 tra Macomere e Borrore, nella zona industriale di Tossilo, all'altezza dello stabilimento della Queen. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita Angelo Angioni, allevatore di Borrore di 34 anni. La vittima viaggiava a bordo di un Alfa Romeo Mito condotta da un compaesano di 23 anni. Per cause in corso di verifica, l'Alfa avrebbe compiuto un sorpasso in prossimità di una curva, trovandosi di fronte un'altra autovettura. Inevitabile l'impatto. Nello scontro Angelo Angioni ha avuto l'appeggio. L'uomo è morto sul colpo. Nell'incidente sono stati coinvolti altri due mezzi, una Ford Fiesta con a bordo due persone e un furgone con l'autista. Scattato l'allarme, sul posto ci sono recati alcuni equipi del 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Macomere. Nella zona industriale di Tossilo sono giunti anche i carabinieri e un equipaggio della polizia stradale. I sanitari hanno prestato le cure del caso e feriti, uno dei quali è stato trasportato nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Ma per Angioni non c'è stato niente da fare. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla Polstrada, che dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale e accertare eventuali responsabilità. Grazie.